Ciao ragazzi, prima di lasciarvi al video in questione vi faccio questa breve intro vocale in quanto avendo registrato con alcuni miei amici non ho avuto modo di introdurre o di chiudere il video appunto mentre registravo come avrete letto dal titolo questo video riguardante Rainbow Six Siege è diverso da quelli che vi ho portato fino ad oggi è molto più divertente, è molto meno serio, quindi vi consiglio di guardarvelo se volete farvi due risate ok ragazzi come al solito mi raccomando lasciate like, commentate, condividete se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, noi ci vediamo nei prossimi video, bella eccoci, partita totalmente di Recute guardate che bella è Recute, tutti di colore diverso guardate che belli i miei mini sopra, guardate sopra i cinque mini colorati col berettino guarda giallo, blu, arancione rosso e verde, verde pisello troppo anche verde, no verde pisello proprio io non c'ho niente praticamente, sapete che abbiamo anche solo una barricalla vero? sì che merda ragazzi ragazzi così diventeremo dei pro a giocare dai, con queste difficoltà io ho spiegato attorno allo stadio anche perché abbiamo solo questo sì infatti riempitelo di filo spinato ragazzi, tanto moriremo prima però sti cazzi con le Recute diranno ma che cazzo eccoli qua, non distruggerla ciao cioè ho detto tutte le telecamere tranne una ma che cazzo grande queste cose qui davvero professionisti c'è questa è l'importanza che ci danno cazzo la gara sopra botola il kill con la recuta io ho 25 di vita già ma che stai facendo ed ora perché se giallo su te stesso magari che la nostra ci vediamo magari però quasi quasi le quasi ucciso marco ho visto il risultato dubietro e vabbè però è conto scato un po' di vita pericolore ecco la regola ecco la regola la regola buggy fuggi fuggi se ne è bravo ma l'occhio con il suo lavoro con il resto non è ancora un'altra a scuotechi o pazzesca a il il è bellissimo come da un'issuale di mezzo mi hai fatto il cartello del testo sai che se la carica dietro sono belli morti oh 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 questa cosa qui perché ti sei suicidato era l'ansia per cazzo da buttare incontro verso lo stagio e chi coi o coi io sono dovuto scappare così ma cazzo facciamo vedere io ho messo gini scudo balistico mi prego dai forse così ce la facciamo io ho messo lo scudo perché di scudo con la recluta l'avamo detto in questa partita che avrei fatto è di scudo con la recluta anche io e in 5 che hanno fatto una che hanno detto questi sono questi sono dell'isis andiamo ce n'è in tre siamo però scudo guardate come sono fighe cazzuti se avessero messo tutte le barricate rinforzate non potevano manca entrare perché non andava per mai sono i bastardi ho ferito il pezzo grande ho appena visto passare uno eccolo eccolo la grande preso ho preso un altro raga avete le granate io una se sfondate questo non parla guardate ragazzo e buona bella dentro una granata ma non è lo stagio ragazzo non ci chiamo lo stagio così un cazzo via mi pare senza farci che non vediamo il caso rinforzate, io ho capito che hanno tirato la sua moto io ho capito che hanno tirato una volta che ho incontrato io ho capito che hanno tirato una volta che ho incontrato io prendo l'ostaggio e me ne vado vai 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 avanti al culo dietro dietro ricarica la risa per cento punti ecco la lanciata ecco di una bella granatina va top of the world guarda il primo entrato il bastardo c'è la dietro c'è la dietro angelo bacio caldo no vai un po ovunque anche un po' nel punto io ero rimasto intrappato in quel filo rinato no cazzo c'è un altro garato al corridoio grazie con grazie ma chi la traga con grazie fuori hanno chiamato la camera a sinistra le ha recluta in attacco raga guardate le ha recluta come vai in avanti ti scoprirà ti hanno detto ma perché rientri tanto vuole a rimanere lì eccolo eccolo grande due contro uno attenzione la riparta delle reclute io lascio qua la telecamera usiamo questa qua dove state voi due mi diceva dalle scale vi avverto siamo a 15 secondi dacci un'occhiata fuori l'ultimo accanto ecco la raga 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 ecco l'entrato nella stanza raga è entrato nella stanza altro a prendere è grande ma perché come l'ho perso perché no non ci credo no non ci credo la recluta ammazza tutto perché poteva fare 2 a 1 sarebbe stata la prima partita vinta di reclute no cioè il primo round è la prima partita vabbè comunque io l'avo detto per scherzare prima grazie a tutti